di sera non non si è svolta per problemi tecnici del campo ma ve li presentiamo oggi Saladin Khazar è un figlio di Emir Khazar è nato in Germania allevato da Zeiss Hans ed ora il proprietario è a Zoppar di Luis EKS Amir è nato nel 2012 in Arabia Saudita allevato da Brown Willy proprietario Tripodi Francesco lui è figlio di EKS Aliandro e EKS Lady Dauphin da Patrician sono entrambi presentati dalle scuderie di Giacomo Capacci Saladin Khazar e EKS Amir il baio è EKS Amir figlio di Ex Aliandro e EKS Lady Dauphin il nero è Saladin Khazar figlio di Emir Khazar e Salama Bin Iman EKS Amir figlio di EKS Amir figlio di EKS Amir e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.